Ben ritrovati con Dica 33, proseguiamo, cambiamo argomento e cambiamo ospite. Abbiamo in studio il professor Filippo Alongi che è il direttore della radioterapia oncologica dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Buonasera e ben ritrovato professore. Buonasera. Senta, parliamo adesso di radioterapia e di moderne cure oncologiche. Quando i pazienti hanno a che fare con patologie tumorali si sente spessissimo, quasi sempre, parlare o di chemioterapia o di radioterapia. Ovviamente ognuno si fa la propria esperienza in base alle cure che deve seguire, in base appunto alla tipologia anche tumorale di cui sta soffrendo. In questo caso, questa sera con lei parliamo di radioterapia. Parliamo subito appunto per capire che cos'è la radioterapia e qual è il suo ruolo all'interno dell'oncologia. La radioterapia sicuramente rappresenta un'arma fondamentale nella lotta contro i tumori. Come sappiamo, il bisturi, la chirurgia insieme alla chemioterapia rappresentano le altre due armi e di solito in ambito multidisciplinare si decide per la patologia oncologica, come bene ha detto lei, in base allo stadio e in base alle condizioni del paziente, qual è l'approccio più opportuno. La radioterapia è molto importante perché può entrare nella storia del paziente oncologico in diverse fasi. Può entrare nella fase iniziale a scopo curativo, può entrare in associazione all'intervento chirurgico prima o dopo lo stesso e può anche essere effettuate insieme alla chemioterapia, allora si parla di radiochemioterapia. Può infine essere utilizzata nella fase più avanzata di malattia, nella fase metastatica, con diverse finalità, dalla finalità sintomatico-pagliativa alla finalità anche in alcuni casi selezionati di disinnescare la sede in cui c'è la malattia e quindi di contribuire insieme al farmaco ad un controllo generale della patologia tumorale. Ecco lei diceva che c'è un'equipe naturalmente oncologica e radioterapica che aggredisce il tumore, quindi c'è anche questa figura del radioterapista oncologico che credo che sia fondamentale nel suo lavoro. Sì, lei deve pensare che il radioterapista oncologo ad esempio in Inghilterra viene chiamato clinical oncologist, proprio perché il suo ruolo, sebbene sia basato sull'utilizzo di alta tecnologia per la cura del tumore, è un lavoro molto clinico, molto clinico perché il paziente viene adeguatamente valutato al fine di capire se il trattamento radioterapico è la strada, come dicevo prima, esclusiva o in associazione alle altre adeguata per quel tipo specifico di caso. Quindi siamo fondamentalmente degli oncologi che invece di utilizzare l'arma che può essere il bisturi o utilizzare l'arma più comunemente conosciuta che può essere la chemioterapia o più recentemente i nuovi farmaci biologici e altro, utilizziamo prevalentemente le radiazioni, ma non solo, come ne dicevo, perché le possiamo o meno associare ai farmaci o intervallare nella tempistica rispetto all'intervento chirurgico. Ecco, c'è la tecnica, la tecnologia in questo caso che vi dà una forte mano, noi diciamo sempre che la tecnologia aiuta persone di grande esperienza, perché se si mette in mano un prodotto di alta tecnologia a una persona che ha poca esperienza non si possono fare miracoli, quindi in un reparto altamente specializzato com'è il suo, la tecnologia ha un ruolo fondamentale. Addirittura c'è una nuova macchina che vi aiuta nel caso delle metastasi celebrali, una macchina all'avanguardia, voi credo siate il primo ospedale al mondo ad averne fatto uso. Sì, ha detto bene, la ringrazio per aver citato questa, una dei nostri fiori all'occhiello. Siamo stati selezionati tra diversi centri al mondo come primi per testare questo tipo di metodologia che ci consente di aggredire le metastasi encefaliche, che ovviamente sono una situazione clinica che può anche ovviamente impattare sulla qualità di vita, ma anche sulla sopravvivenza in sé. Vogliamo vederle anche, dico la regia, questa macchina, dato che lei ce la descrive. Si tratta ovviamente di un'apparecchiatura che in modo assolutamente non invasivo, quindi è un acceleratore lineare, con un software specifico che ovviamente è gestito e guidato da noi operatori, consente di colpire le metastasi osse anche quando sono in numero molto elevato. Noi dobbiamo pensare che il trattamento mirato, la cosiddetta radiochirurgia, che ha degli effetti sostitutivi dell'intervento chirurgico in casi selezionati, in questo caso utilizza delle radiazioni specificamente mirate in modo millimetrico su questi focolai intracranici di malattia. Questo tipo di trattamento viene fatto, come ripeto, in pochi minuti, in modo assolutamente invasivo, quindi il paziente non ha necessità di anestesia, non ha necessità di null'altro rispetto ad un semplice sistema di mobilizzazione. C'è una maschera specifica che riduce al minimo, quindi a quasi meno del millimetro ogni tipo di movimento e in questo modo con la precisione e l'immobilizzazione del paziente possiamo selezionare queste lesioni, individuarle e colpirle con una precisione che in passato era molto difficile da ottenere. Senta, c'è ancora qualche timore nei confronti della radioterapia o il paziente ha imparato che può essere invece un buon sistema per guarire dalla malattia o tenere sotto controllo la malattia? Per fortuna la radioterapia è sempre più conosciuta dai pazienti perché nell'ambito del loro percorso, come dicevano, modo di alla fine usufruire dei vantaggi che questo tipo di terapia non invasiva è in grado di fornire, c'era in passato comunemente un timore legato ad esempio all'irradiazione dell'acute, si diceva che con la radioterapia c'era rischio di bruciare i tessuti o ancora di poter contaminare altre persone. La famosa radioattività, si diceva di tenere lontano i bambini. Specifico che queste apparecchiature sono delle apparecchiature che erogano nella maggior parte di casi dei raggi X e l'azione delle radiazioni termina nel momento in cui il paziente esce dalla sala di trattamento e quindi può stare a contatto con chiunque. Cosa ben diversa da una PET ad esempio che si fa per individuare dove magari il tumore è nascosto e dove non si vede. Abbiamo spesso pazienti anziani che magari sono nonni o donne che hanno bambini e le tranquillizziamo sul fatto che nel momento in cui il trattamento finisce non sono più radiattivi, almeno con questo tipo di tecnologia. Ecco, abbiamo detto che si usa soprattutto per le metastasi cerebrali, ma la radioterapia generale si può utilizzare anche per tumori nell'area toracica oppure anche per tumori al seno. Non ci sono pericoli, perché alcune volte si dice ma c'è il cuore vicino in caso che ci spiega bene. La ringrazio anche per questo tipo di osservazione che è molto pertinente perché ovviamente quando noi irradiamo il seno, prevalentemente dopo l'intervento chirurgico, l'intervento di quadrantectomia che è un intervento che consente di garantire la conservazione d'organo e quindi le donne mantengono il loro profilo femminile, deve essere necessariamente seguito nella maggior parte dei casi dall'irradiazione della mammella. Irradiazione della mammella che spesso, soprattutto per la mammella sinistra, può con le tecniche tradizionali coinvolgono una parte di cuore, quindi le radiazioni rappresentano come il fumo di sigaretta e come altri fattori, un fattore di rischio soprattutto nel tempo di avere fenomeni cardiovascolari, per intenderci eventi coronarici, cardiopatie e così via. Un timore ma anche un qualcosa che può generarsi. Con le nuove tecniche, in particolare nel nostro reparto abbiamo un protocollo specifico che ci consente di irradiaire la mammella solo nel momento in cui si distanzia rispetto al cuore. Noi sappiamo che respirando c'è questa oscillazione graduale, diciamo periodica del torace, la cassa toracica si allarga, nel momento in cui si allarga durante l'inspirazione noi abbiamo la distanza massima tra il cuore e la mammella e quindi irradiamo con tecniche avanzatissime la mammella risparmiando al massimo il cuore, mantenendola di sotto di quella soglia di dose che è considerata, come dicono gli americani, safe, sicura per ridurre al minimo o abolire totalmente il rischio di questi eventi cardiovascolari. Senta, probabilmente in due minuti lei non riuscirà a rispondermi perché ovviamente voi siete del settore quindi sarebbe una risposta molto complicata e articolata, ma magari cerchiamo di ridurla in maniera molto semplice. Quando è che si ricorre alla radioterapia? Perché alcune persone dicono non riesco a capire se per la mia patologia la soluzione radioterapica è una soluzione opportuna che fa sparire il tumore o se poi dovrò fare anche delle chemioterapie. Come le dicevo immagino che in un minuto e mezzo non riusciamo a dirla. Per sintetizzare le posso dire che la radioterapia è utile nel circa, secondo alcune stime recenti della nostra società europea di radioterapia oncologica e in più del 65% dei casi. Questo significa che quasi praticamente due pazienti su tre nel loro percorso necessiteranno di una radioterapia che può essere curativa in molti casi, che può essere sintomatico-pagliativa in altri e che in altri ancora, insieme come dicevamo ai farmaci o al bisturi, può allungare la vita o migliorarne la qualità. È chiaro che spesso il paziente viene informato sulle potenzialità della radioterapia, ma di sua spontanea volontà. Ma io penso che la migliore scelta del ruolo della radioterapia deve essere in un contesto multidisciplinare. Quindi la figura dell'oncologo medico, dell'oncologo radioterapista, dell'oncologo chirurgo, se necessario ad altri specialisti, deve insieme valutare di concerto qual è la terapia appropriata per quel tipo di persona. Lei deve pensare in passato c'era una terapia che era valida per tutti, oggi andiamo verso la personalizzazione. Ogni paziente deve avere il suo specifico percorso. La stessa chemioterapia non è più generica e poi radio e chemio possono anche andare d'accordo e essere sposate per risolvere e enfatizzare, aumentare insieme la loro efficacia. Certo, degli effetti. Bene, grazie professore, grazie per essere rimasto con noi, il nostro tempo è terminato. Noi ci fermiamo, professor Filippo Alongi, lo ricordiamo, direttore della radioterapia oncologica dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Pochi minuti di pubblicità e poi cambiamo argomento e ospiti. Restate con noi. Grazie. Grazie.